Continuiamo con Antonella Cosenza, che ha presentato Personal.Shop. Se le passi il microfono, vogliamo spiegare di che si tratta, qual è questo progetto presentato, questo poverito? Personal.Shop nasce come un'idea di network, quindi nasce con l'idea di mettere insieme Personal.Shopper e guide specifiche per lo shopping nelle principali città della moda. Nasce dall'esigenza di poter offrire al turista un'esperienza di shopping più esclusiva, visto che al giorno d'oggi con il fenomeno del fast fashion ci ritroviamo con le vie principali delle città della moda, ormai piene di negozi e brand che ritroviamo poi ovunque. Quindi diciamo che il turista che viene a visitare Roma, per esempio, si aspetta sicuramente di avere un'esperienza di shopping esclusiva che sappia valorizzare anche quello che è il nostro Made in Italy. Così come il turista che va in città come Londra o New York si aspetta di trovare qualcosa di veramente unico, qualcosa di veramente innovativo. Oltre allo shopping, sempre per il servizio turistico, abbiamo abbinato anche l'esperienza e la conoscenza del territorio, quindi persone, professionisti capaci di saperti consigliare anche il ristorante o piuttosto che il locale o il posto dove fare il miglior aperitivo o dove mangiare il miglior gelato. Un altro servizio che offriamo invece, quindi questa è la parte più turistica, un altro servizio che offriamo è proprio quello della consulenza di stile, quindi la vera e propria personal shop perché si occupa di curare il tuo stile, ma se prima veniva visto come un bene di lusso, adesso noi puntiamo a farlo vedere come un servizio ho volto anche a farti risparmiare, risparmiare tempo e rispettare soprattutto il tuo budget perché uno dei problemi più grandi che si può avere è proprio quello di spendere e acquistare prodotti che poi non vengono utilizzati, quindi affidarsi ad una professionista, ad una persona esperta ci consente di fare l'acquisto giusto e quindi di rispettare il nostro budget e soprattutto di guadagnare tempo, quindi è un servizio che si rivolge soprattutto a lavoratori che appunto hanno poco tempo a disposizione. Quindi questo è uno dei punti di forza del progetto? Sì, infatti l'obiettivo del progetto è far comprendere che il servizio non è un bene di lusso, anzi al contrario è un servizio che punta proprio a far risparmiare, come dicevo, ad ottimizzare le proprie risorse in termini di tempo e budget. Grazie Antonella Cosenza. Grazie a tutti.